E con l'arrivo del capitolo 2 di Fortnite tornano anche le challenge di Stepney Mi raccomando ragazzi guardate un po' che magliettola, maglietta coi lama Quindi usate il codice creatore Stepney all'interno del negozio Se lo fate mi raccomando taggatemi su Instagram Spolliciata più non posso perché dobbiamo arrivare a 30.000 mi piace Per il primo appuntamento della canna da pesca challenge Possiamo utilizzare solo ed esclusivamente le armi che abbiamo pescato Sarà un po' complicato, probabilmente impazzirò Però mi raccomando ragazzi Commentate, supportate la serie, io vi auguro una buona visione Bene ragazzi questo è il primo e ben tornati in questo nuovissimo video della serie di Fortnite Con le challenge, sono gasatissimo Non perdiamo tempo ragazzi, andiamo immediatamente in partita L'obiettivo è di atterrare in un posto tranquillo Farmare materiali, trovare delle canne da pesca E successivamente andare a massacrare tutti quanti gli avversari L'unica domanda è dove vado a farmare con calma? Io proverai questo posto qua giù Che abbiamo scoperto in live essere strapieno di roba Eccolo la stepni che sfoggia subito il deltaplano della vittoria reale Ragazzi se lo avete sbloccato taggatemi su Instagram mi raccomando Dobbiamo sperare che la safe sia vicina a noi Altrimenti potremo già avere un problema da risolvere Noi non vogliamo avere problemi da risolvere Non ci sono persone nei paraggi E questa cosa ci va benissimo Dobbiamo trovare una canna da pesca adesso Oh mio dio Subito raga Immediatamente Aver già trovato la canna da pesca È un buon punto da cui partire ovviamente Stanno per annunciare la safe Dimmi che è intorno a me Dimmi che è intorno Stai scherzando? Non avete capito ragazzi Non possiamo stare qua un secondo di più Dobbiamo andarcene via Vediamo un po' se saremo fortunati Mai avrei pensato di dover pescare Per vincere una partita Dammi qualcosa però eh Cos'è che abbiamo? Un pesce Ma cosa? Beh Stepney che si meraviglia di pescare un pesce pescando Strano giusto? Credo di sì Un altro pesce E vai Il pesce è come una benda praticamente Questo che caspita fa scusatemi Ah Se tiri questo addosso a un nemico gli fai danno Controllate il povero Stepney Datemi un'arma Questo è un livello successivo Altro che deltaplano challenge Materiali Mi prendi in giro? Oh Ragazzi Ucilla a pompa blu Che culo Altri 20 secondi e poi partiamo So che il fucile a pompa non sarà sufficiente a farci vincere Abbiamo anche una pistola Va bene dai Non esageriamo Andiamo verso la zona sicura Se no non arriviamo mai più Tutti i materiali che abbiamo trovato fino ad ora Andranno sprecati per salire questa montagna Lo sapete vero? E vai Io sto andando a giro senza scudo Senza niente Ma che dai Uela Una trappola Anzi due trappole Molto bene Io non chiedo molto Un simbolo Del riconoscimento del gioco Nei miei confronti Perché mi invento delle challenge Strambe ogni Oh mio dio Oh mio dio C'è il lama C'è un lama quasi a bordo safe Incredibile This is very good My friend This is very good Abbiamo i pesci Non dobbiamo preoccuparci della tempesta È tutto ok Dai che c'è il lama Non ci voglio credere Ma dato il lama sul serio Raga che culo Che culo E qua bello Non scherzare eh Dai che siamo a bordo safe Medikit Un bel medikit Ote ho pozioni Pozioni buonissime Prendo queste bende Prendo le pozioncine Le uso subito Tanto abbiamo i pesci Per tornare al massimo Tranquilli Spariamo anche la pozione Quella grande Così abbiamo 100 di scudo Che culo Di ripeto Posso mangiare il pesce Dai che puoi portare ogni cosa Su Non fai lo stimfi Tanto caspita Ci vuole E andiamo Guarda raga non lo prende Raga non lo Non lo prende Non lo prende No Oh mio dio Raga sto per morire Sto per morire Perché non lo prende Incredibile Incredibile No no raga È bagatissimo il gioco Ve lo dico È super bagato Siamo entrati ora in safe E dobbiamo scappare Da un'altra tempesta Prima in zona sicura E poi si combatte Già sto alla buccia Ci manca solo Che mi faccio far fuori qua Mi sa che sono vicini Mi ci sai Tipo marshmallow lì Oddio L'ho ucciso Ma chi sono? No No marshi No marshi Non lo fare marshi Non lo fare marshi No marshi È pericoloso Marshi Tu hai il tuo stupido Lancia missile Scusate raga Ma ho attraversato Tutta la mappa Per morire da un pirla Se permettetemi Arrabbio Ma magari ci muori Adesso Sì Godo Avanti un'altra partita Avevo trovato anche là Ma avrei dovuto trovare Un modo per andarmene via Di lì Ma non è così semplice Come sembra Qua sotto Quel posticino lì Nel caso in cui non trovassimo Una canna da pesca Potremmo avere Un grosso problema Una cassa Vediamo un po' Cosa ci dà di buono Ok Lancia missili E non lo posso usare Che nervoso Uh le granate le posso usare Niente Grazie C'è anche il fucile a pompa qua C'è il posto perfetto Questo raga Il posto Perfetto Oh Siamo in zona sicura Perlomeno Una soddisfazione Oh Michael Bay Calmo Michael Bay È pericolo Oddio No per il fuoco Wow Io mi lamentavo La partita prima Ma adesso non abbiamo Neanche lo strumento Per fare la challenge It's a problem Wow Jack Potraga Ho accato un camion Ne ho trovato Sette miliardi Di canne da pesca Let's go baby Guardate che casino Mi tocca fare Per vincere una partita Voglio un fucile a pompa Leggendario Per piacere A posto Calmo amico Calmo Ok Se ne è andato via Ah 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 Non mi vede nessuno C'è un pesce Non mi serve Un altro Un altro motorbot Non facciamo finta di niente Oh No eh No No sei 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 serio No ma se Non stai scherzando Dai che non puoi fare niente No No Aiuto Aiuto Voglio morire Che nervoso E anche pescare in santa pace E anche pescare in santa pace Sempre più convinto Di aver commesso Un grande errore A fare questa challenge Ma dobbiamo provarci Qua sotto raga È perfetto Ci buttiamo in una di queste isolette E peschiamo All'infinito No cosa vuoi tu Dai Sitti tutti Ho visto delle canne da pesca qua Ce ne andiamo via subito raga Ce ne andiamo via subito Via Perché non mi lasciano in pace Neanche un secondo Ah il P90 adesso Che non lo posso usare Che vergogna Questo gioco mi odia No Ma dai Sei serio Non puoi essere serio Dai Non puoi essere serio Ma non ha senso Ma fammi pescare Al molo di Sweetie Sands Per piacere Le spiagge sudate Grazie E ne vado qua sotto Al molo Prendo la canna da pesca E dovete lasciarmi in pace Grazie mille Ok Just one weapon Forsepni Solo lattine Solo lattine Datemi un'arma Per favore A meno un'altra Ti prego Un bel fucile A pompa Sì Che bello Questo nuovo capitolo Di Fortnite Solo pesci Perché mi date solo pesci Qualcos'altro Che non sia un pesce Un altro pesce Oh Oh Sei pazzo Aiuto Aiuto raga No Non si fa Non si fa No 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 È follia pura questa È follia allo stato puro Raga Oh Aiuto Aiuto Non si può neanche pescare In mezzo al molo Oh mio Dio One Eternity Later Almeno alla fine della corsa Dell'autobus C'è un po' di tranquillità Incredibile Adesso abbiamo tutto il tempo del mondo Raga Per farmare Non so se capite Finalmente Abbiamo la nostra bellissima Canna da pesca E si vola Un altro pesce E vai A due Ma ci sono solo pesci nel mare Le armi non ce le hanno messe Oh Un fucile a pompa Raga Come sembra vero Senza guardare raga In no look Eccolo Ecco Una bella lattina Una R E tanta roba Ok Dai che facciamo un piccolo upgrade Quando ho trovato il tac blu Ero stato fortunatissimo In realtà Posso potenziare Il mio fucile a pompa Dai va bene Fucile a pompa Upgradato Non ho barato C'avevo il mio E l'ho upgradato Non dite nulla Cosa stai facendo No Non esiste Vado a ucciderlo raga Per forza È l'unico modo I'm coming for you Davitai Non è vero Che caspita Che fatica devo fare Andiamo in fretta il falò E andiamo Ce ne vede a questo posto del male Mancano dieci persone Oddio Se riesco a vincere Questa challenge Sono the god Ufficialmente Lo dico eh Zitti tutti Che c'è un airdrop Qualcuno sta andando A prenderlo però Mi sa No Oh ca... Oh mio dio Veloce che c'è l'airdrop Veloce Sei se... Stai scherzando vero No eh Ok Sì Sono il più forte Mamma mia L'ha polverizzato Sto tizio Voleva fare il figo Con steppi Ma ha sbagliato tutto Ho sbagliato Magli un ballettino Mancano tre persone Una sta sparando ad un'altra Quindi posso mangiare le mela Nel frattempo Vai così Potrebbe essere la prima vittoria Nella Hanna da pesca challenge Ragazzi Non scherziamo Missili Io non ce le ho Quelle cose Ok Gli sta sparando Ok Sono molto vicini Romperò le scatole All'ultimo Raga Step interviene adesso Continua a buildare su Questo tizio Oh no Sta venendo da me Oh Cosa? Sopra di me Esattamente sopra di me Oh eh Step Non perdere la concentrazione Uno è sotto là E uno è sopra di me Manco fosse una skirmish Raga Che ansia Sta arrivando la tempesta Raga Dobbiamo prendere una decisione Preso Non voglio usare queste armi È impossibile raga Farlo fuori Come faccio? Ma dai Semplice È da là sopra In un colpo sono morto Che vergogna Io sono senza parole ragazzi Non ha senso Questa cosa Un colpo Poteva essere la vittoria Nella challenge E invece un fallimento epocale Lo dico sinceramente Ultima partita E chiudiamo il video Ultima possibilità Di vincere una partita Usando le armi pescate Dai Io ovviamente Non so se avete capito Ma mi droppo Dove ci sono le canne da pesca Ovviamente E dammi un'arma No Sì comunque Le possibilità di trovare un'arma Sono veramente basse È incredibile questa cosa Dovrebbero leggermente Aumentarle Perché se uno deve pescare Le lattine E i pesci Eh Mannaggia 5 pesci E una lattina Che bello Uuuu Ora sì che si ragiona Raga Un bel fucile a pompa Facciamo un po' il panico Please Potevo pensare Una challenge Un po' più semplice No no Uuuu R raga Si vola Vado eh Io vado Big shield Wuuu 50 scudo Per stepney Comunque questa casetta È davvero molto carina Potrebbe essere ufficialmente La nostra dimora Wow That's very good Altra pozione a 50 Grande Un tac blu Un po' sopra Ehi tua sorella Sì sì Dai magari la prossima volta Spariamo due bende Le altre le abbandoniamo Adesso abbiamo anche una trappola Io vado a giro con 125 di vita Questo è quello che mi merito Per l'ultima partita di oggi Va Cosa? Cosa vuol dire che non c'è connessione? No stai scherzando spero C'è un falò Intanto mi curo Stepney interviene? Sulla è mia No 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 Non esiste Ma sei in serio? Ma sei in serio? Questo sciacallo Che ha rubato le kill dell'altro È rimasto con nove di vita Per me basta e avanza Per oggi e per sempre Cari amici La canna da pesca challenge termina qua Non so se ne faremo altre Davvero voglio vedere 30.000 mi piace No bye bye Fatemi sapere se vi è piaciuto questo testo spolliciato Commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina E ci vediamo nei prossimi giorni con il prossimo video Questa è prima Wilson è tutto Cosa dici? Non so pescare è per quello che non riesco a vincere Vallevati Buffone